Proseguono le nostre puntate che si stanno occupando del progetto Informo Assisto Tutelo portato avanti da ADOC Puglia, finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Un progetto, come detto in altre occasioni, relativo alla informazione digitale sulla filiera alimentare, sull'etichettatura degli alimenti e quant'altro. Ci sta facendo da guida in questo percorso conoscitivo a beneficio dell'utenza attraverso lo strumento televisivo e attraverso lo strumento del web la dottoressa Silvia Bitritto che, ricordiamolo, è dottore agronomo. Quindi abbiamo con lei analizzato un po' la materia, abbiamo considerato nelle precedenti puntate la individuazione, la tipologia, la tipizzazione del consumatore del 2020, abbiamo considerato la filiera, la filiera corta, la filiera lunga, insomma in tutte le sue sfaccettature e diramazioni. Quest'oggi ci occupiamo dei marchi comunitari. Sì, allora appunto i marchi comunitari sono dei marchi che vengono nominati molto spesso ma a volte non è ben chiaro in cosa consistono. Sono appunto dei marchi che vengono apposti su dei particolari prodotti che hanno delle caratteristiche ben definite. Ovviamente questo è un modo anche per proteggere i prodotti dalle frodi, dalle frodi che avvengono purtroppo soprattutto all'estero quando alcuni soggetti cercano di replicare dei prodotti tipici per esempio della nostra nazione che è appunto l'Italia e che sono un po' fiorell'occhiello della nostra nazione. Ecco, dottoressa, parliamo di queste attestazioni e qualifiche inerenti ai marchi perché molto spesso vediamo prodotti da agricoltura biologica, DOP, IGP ma cerchiamo di capirne di più. Allora, ovviamente i prodotti da agricoltura biologica sono tutti quei prodotti che seguono un disciplinare di produzione di tipo biologico, quindi non convenzionale. Per convenzionale noi intendiamo tutti i prodotti normali che troviamo normalmente in commercio. Quando sono biologici vuol dire che non sono convenzionali. Per quanto riguarda appunto l'agricoltura biologica sappiamo che c'è un rigido disciplinare di produzione che non prevede moltissimi prodotti chimici che solitamente vengono utilizzati in agricoltura. Prevede delle lavorazioni minime del terreno, quindi è un metodo di cultura che aiuta anche diciamo un po' l'ecosistema, quindi è un intervento minimo dell'uomo. Questo marchio ci aiuta a identificare appunto quelli che sono i prodotti da agricoltura biologica. Hanno sempre un prezzo un po' più alto perché ovviamente... Questo lo notiamo, no? Magari ecco il consumatore, lo dico anche così da ignorante in materia, tra virgolette, penso per esempio anche, non so, le uova, per esempio, no? Allora magari il prezzo che ovviamente è un po' più alto, magari induce così inconsapevolmente, ingenuamente l'acquirente, il consumatore a dire beh vabbè questo costa di meno e lo compro. Invece no, perché magari è più importante puntare su un prodotto di qualità come quello biologico? Sicuramente un prodotto biologico appunto non avvalendosi l'azienda di molti prodotti chimici, di alcuni sistemi di allevamento che consentono una produzione maggiore. In questo caso quindi abbiamo una produzione minore, ovviamente c'è meno prodotto e quindi ovviamente il costo deve essere maggiore. Perché è importante? Perché nel momento in cui noi andiamo a preferire sempre di più prodotti biologici, prodotti certificati, noi influenziamo il mercato in maniera positiva, quindi iniziamo a creare un cambiamento anche noi nella produzione stessa. Parliamo, dopo i prodotti biologici, dei prodotti DOP, ossia quei prodotti con denominazione di origine protetta. Allora, i prodotti DOP sono dei prodotti che hanno un disciplinore di produzione veramente molto rigido, quindi tutte le fasi della lavorazione, nonché la materia prima, devono essere prodotti all'interno di uno specifico territorio. Ad esempio, un prodotto DOP molto famoso, questa è la mozzarella di bufala campana. Quindi sì, bisogna rispettare un disciplinare di produzione molto rigido e soltanto alcune aziende possono quindi poi vantare un prodotto DOP. Poi abbiamo per esempio il prodotto IGP. Indicazione geografica protetta, anche questo forse proprio tipizza, come dire, lega il prodotto a quell'area di produzione. Esatto, purtroppo graficamente è un po' simile alla DOP, solo che questo è blu e invece quello risulta come un marchietto rosso. Questo qui come unica differenza è un po' meno rigido, ma solo perché almeno una lavorazione deve avvenire nel territorio di denominazione dell'alimento, però il resto può provenire anche dall'esterno, quindi anche da altri paesi. Seguiamo la nostra analisi con i prodotti STG, specialità tradizionale garantita. Anche qui vediamo, sono sempre ricorrenti queste tipizzazioni, questo legame forte ai territori, alle tradizioni, alla genuinità. Quindi questo rapporto diretto con il territorio neanche, come dire, una garanzia? Sì, certo. Infatti, per esempio, per specialità tradizionale garantita, che è appunto l'STG, un prodotto famosissimo è appunto la pizza. La pizza viene fatta ovunque, quindi non è necessariamente da produrre nello stesso luogo di provenienza, però l'importante è che abbia delle caratteristiche fisiche e chimiche proprio tipiche di quella preparazione. Quindi può essere chiamata tale solo se ha quelle caratteristiche. Parlando di questi prodotti vari, beh, ora tocchiamo un tema carissimo a noi pugliesi, come devo dire a molte parti d'Italia, però sappiamo il valore dei vini della nostra Puglia e quindi i vini, ora parliamo in genere dei vini italiani, DOC, IGT, DOC-IG. Per quanto riguarda invece i marchi per i vini, quindi DOC-IGT e DOC-G, abbiamo denominazione di origine controllata, indicazione geografica tipica e poi denominazione di origine controllata e garantita. Per i primi due, diciamo, sono un po' i corrispettivi della DOC e dell'IGT, quindi DOC deve essere prodotto tutto nello stesso territorio. L'IGT, almeno l'85% delle uve di quel vino, deve provenire da quello specifico territorio di cui porta il nome, mentre la DOC-G, quindi la denominazione di origine controllata e garantita, hanno addirittura delle bottiglie con delle fascette di Stato, quindi rilasciate dalle Camere di Commercio. Quindi è una certificazione molto difficile anche da ottenere. Esistono vari tipi di disciplinari. Parliamo di questi disciplinari e di chi ne garantisce il rispetto. Ovviamente per poter vantare un prodotto DOC-IGP, STG, ma più DOC-IGP, ovviamente dobbiamo attenerci non solo al disciplinare, ma anche a tutti i controlli che poi vengono effettuati da enti esterni. Quindi la richiesta di registrazione va depositata sia alla Regione che al Ministero e solo dopo si può iniziare a produrre con quel marchio. Quindi sono dei prodotti assolutamente garantiti e possono essere un validissimo strumento anche per evitare le frodi. Bene, termina qui la nostra chiacchierata con la dottoressa Bitrito. Vorrei congedarci con l'ultima slide che così vuol omaggiare come doveroso che sia l'ADOC. C'è un bellissimo logo con un cuore con il giallo-rosso dell'ADOC. We love ADOC. ADOC si batte con te. È questo proprio lo spirito che ha formato e informato il progetto regionale Informo, Assisto e Tutelo della Regione Puglia, ricordiamolo, fidanziato dal MISE Ministero per lo Sviluppo Economico.